Allora attenzione perché in un posto dove c'è il museo della bilancia e quindi stiamo parlando della bilancia non potevamo che convocare insomma coloro che rappresentano questa grande situazione voi sapete se non siete mai stati qui a Campogagliano basta fare un'operazione molto semplice anzi ce ne sono due da fare e dovete farla la prima quando arrivate a Campogagliano questa cosa ovviamente è la prima situazione è vedere il cartello che è scritto Campogagliano città della bilancia quindi già capite che non dovete andare né troppo destra né troppo sinistra perché comunque bisogna essere bilanciati anche nella guida quando si entra proprio nel comune un'altra cosa interessante è con il restyling di quello che è appunto la piazza trovate per terra tra appunto i San Pietrini, il Porfido e tutte quelle che sono le parti proprio nella parte della pavimentazione orizzontale e tante raffigurazioni della bilancia che significa che insomma per loro è qualcosa che identifica nella maniera più misurata ed equilibrata questo comune e questo territorio ecco perché porto ovviamente il per quanto riguarda il museo della bilancia Maurizio Salvarani e Simone Saccucci se non vado errato dovrebbero essere con noi uno di qua uno di là bene che arrivano stranamente non su una stadera sarebbe stato impossibile ma in realtà arrivano con delle bici diciamo vintage molto vintage allora bene più che altro sono biciclette che utilizziamo all'interno della mostra che è in corsa adesso perfetto allora spieghiamo bene che ovviamente c'è il museo che diciamo è resident ma poi in realtà loro ogni periodo scelgono sempre insomma delle linee per portarvici all'interno delle particolari mostre assolutamente assolutamente il museo ha una collezione storica assolutamente d'eccezione difficilmente replicabile all'interno del nostro museo però abbiamo molto spesso delle mostre temporanee in particolare dedicata alla divulgazione scientifica e tecnologica come in questo caso allora in questo caso voi avete delle biciclette che in realtà cioè sinceramente la particolarità è quella che più originale di così non si può cioè non le avete toccate o ritoccate giusto? no in realtà sono fatte apposta ah perfetto ora spiega bene come si fa arrivare a questo allora questo è un procedimento che lascio a cui lascio la descrizione spiegami un po' l'idea fondamentale della nostra mostra il tesoro a pedali è che appunto cerchiamo di spiegare il funzionamento della bicicletta lo facciamo facendo provare facendo fare tanti esperimenti e soprattutto mettendo a confronto biciclette vetuste come queste e biciclette ultramoderne oggi però abbiamo abbiamo cercato di contribuire a questa bella giornata di festa con uno spettacolo ispirato alla bicicletta ed è appunto per questo che Simone Sacucci ci ha agliettato fino a due secondi fa proprio allora intanto che passano immagini che in questo momento vi arrivano in diretta proprio dal museo e chiedo ovviamente all'attore di che cosa si tratta quella che è poi la rappresentazione che tra l'altro spezzo una lancia a favore di chi si presta molto spesso per questo che non è solamente una rappresentazione artistica ma che deve contenere anche dei dettami tali per cui le persone che ascoltano possano beneficiare di qualche fondamento che voi gli date con la performance allora è stato è stato un gioco un gioco cantato e raccontato io racconto storie e le canto e la storia che ho raccontato e cantato oggi è la storia di Luigi Ganna il primo vincitore del primo giro d'italia 1909 abbiamo giocato fino adesso infatti sono sudato fratico vabbè che c'entra se è il traguardo che te frega ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho superato tempeste di neve e piazza a oglia ecco e la storia è stata questa di questo uomo che veniva da una famiglia contadina e che ha fatto il muratore per tantissimo tempo e che senza neppure rendersene conto 100 km ad andata e 100 km a ritorno si è allenato e ha cominciato a fare le gare con la bicicletta con cui andava a fare il muratore e a un certo punto si è ritrovato vincitore del primo giro d'italia e quando gli hanno chiesto signor Ganna che cosa prova adesso che ha vinto il giro d'italia tutti si aspettavano sono emozionatissimo ringrazio tutto il paese eccetera eccetera in realtà lui ha risposto semplicemente brusè il culo è certo che per una serie di motivi per tutti coloro che chiaramente ci seguono anche da fuori regione significa avere un particolare calore nella parte che sta sotto il coccige e appena sopra quella che è la parte del gluteo esatto sì esattamente si voleva intendere questo semplicemente perché una volta è vero i sellini erano quelli che erano in un modo piuttosto stringato per dire proprio questo allora mai come oggi il museo della bilancia ha aperto i propri battenti perché poi queste sono giornate che servono a promuovere il territorio ma sono anche giornate di festa ma sono giornate che servono poi a ricordare quelle che sono le eccellenze che rappresentano il comune allora raccontami poi in realtà proprio del museo nel senso voi siete aperti noi abbiamo un sito internet intanto su cui potete trovare tutte le informazioni gli orari e le tariffe che è www.museodellabilancia.it vi invito a consultare anche questo sito per vedere gli altri appuntamenti che sono a margine della nostra mostra e sì all'interno del museo che è sempre aperto il sabato e la domenica c'è questa collezione in cui si ripercorrono 2000 anni di storia degli strumenti per pesare e di misure in generale allora attenzione perché magari qualcuno sfugge però secondo me è sempre bene ricordare perché sennò tutti gli altri hanno sempre scontato le cose perché Campogagliano è il comune, il posto, il luogo, la contea della bilancia il Campogagliano è città della bilancia perché si costruiscono bilance e strumenti per pesare e di misura da prima dell'unità d'Italia, dal 1860 ed è una tradizione che è tuttora molto molto presente nel nostro territorio dal punto di vista produttivo e anche culturale di identità locale lo diciamo perché poi uno dice magari sono, insomma voglio dire per quale motivo proprio qua perché poi in realtà insomma qui c'è la storia di questo misuratore di peso fatto insomma di varie forme, vari materiali e soprattutto di tanta storia come stiamo vedendo, insomma io ho citato prima la stadera classica da fruttivendolo con il romano e quant'altro però è altrettanto vero che insomma io per queste cose sono sempre a favore di portarci innanzitutto i bambini perché da qui parte poi tutto quanto perché adesso è troppo facile vedere dei numeri al computer, questo pesa, questo invece lì questo è assolutamente uno dei nostri obiettivi infatti oltre al tema specifico della pesatura, della misura ci occupiamo molto di divulgazione scientifica e tecnologica proprio con quest'idea che oggi l'elettronica ci consente di fare cose meravigliose ma molto spesso sviluppa un pensiero di tipo magico cioè non si capisce bene cosa c'è tra schiacciare il ditino e il risultato che ottieni esatto, la meccanica e in particolare anche appunto il sistema di leva che è alla base dei sistemi di pesatura ti consentono invece di crearti un'idea di ripercorrere il percorso del principio che metti in atto e tra l'altro devo dire che insomma tutto questo lo potete vedere al Museo dei Babilanci in ugual misura niente può essere ripetuto meccanicamente quando poi in realtà si prendono storie come insomma ha fatto il nostro artista e vengono non solo addomesticate per il grande pubblico ma che racchiudono dentro veramente dei sapori particolarmente genuini dove magari qualcuno ha avuto un momento dove gli sono sfuggiti i particolari loro con queste storie riescono a far capire perché gente è grande esatto, sì, sono persone grandi e che non si rendevano conto di esserlo è vero è questa la cosa straordinaria guarda io vi ringrazio con questa negli anni 80 ci impennavo anche a una mano sola adesso se lo faccio dobbiamo chiamare la neuro deliri peraltro nel tuo caso invece è la classica bicicletta dove la signora negli anni 50-60 riusciva a avere la gonna larga ecco, bravo esattamente, però insomma vabbè avrei 100 battute su questa cosa ma sono ancora un orario ma che veridete però la cosa incredibile è che io sono in mezzo e loro ridono in ugual misura ma d'altronde, d'altronde, d'altronde va bene, vi saluto, ok, grazie e complimenti bocca al lupo e loro se ne vanno con i loro mezzi vetusti ma pur sempre pieni di fascino